Se vale la pena esserci o non esserci, la notizia bella del Vangelo è proprio questo, Dio ha bisogno di te, tu sei venuto al mondo, non per caso, ma io avevo dei pensieri su di te, delle attese su di te. Mia madre, che ha fatto la terza elementare, mi comunicava, mi disse un giorno, preparati ragazzo, perché il Signore del bene è da farti fare.